Eccoci, buonasera anzi, buonanotte visto l'orario, quando diciamo e ripetiamo che il Giro ha delle giornate così e in giornate come queste, insomma, tira fuori tutta la sua complessità, la sua difficoltà, sono le 11 passate, un trasferimento lungo, una tappa molto bella, spettacolare, ma anche molto molto dura. Ciao Ivan. Buonasera, come hai detto il Giro d'Italia non sono solo ovviamente le 5-6 ore in bicicletta, ma dura tutta la giornata e la bravura nel gestire anche le ore pre-gara e post-gara a lungo andare fa la differenza, quindi è per questo che la squadra, anche quella che non si vede, la gente da casa vede i corridori in televisione, vede i direttori sportivi, vede i meccanici, i messaggiatori, ma c'è una parte della squadra che non si vede che lavora fino a tarda sera, si sveglia presto la mattina perché tutto deve funzionare al meglio. Quindi chi è capace di gestire bene anche il pre e il post e poi è quello che a lungo andare, soprattutto nell'ultimo terzo del Giro d'Italia, fa la differenza. Bene, oggi è stata come dicevamo una tappa molto molto spettacolare, è stata importante per la classifica, è stata importante anche per noi della Iolo Cometa perché è una fuga un po' a sorpresa, un po' inaspettata, in pochi si aspettavano che oggi, in una tappa come quella di oggi, che è quella di Montalcino, una delle tappe regine di questo Giro, in pochi si aspettavano che andasse via una fuga, che arrivasse all'arrivo, la fuga è partita e tra i fuggitivi c'era anche uno dei nostri, uno che i nostri tifosi stanno imparando a conoscere bene. Sicuramente, quando ci sono le tappe difficili in un Giro d'Italia, le tappe di montagna, bene o male, lo scenario non è così complicato da decifrare. Il giorno precedente, le tappe con lo sterrato, le tappe con il pavé, hanno una serie di imprevisti che portano una super attenzione per gli uomini di classifica, per chi vuole fare la tappa e crea sempre due situazioni contrapposte. La prima, che la fuga di giornata può andare via subito e il gruppo lascia fare, o la seconda, che c'è una lotta incredibile perché la fuga non riesce a sganciarsi, quindi non riesce a crearsi la famosa fuga di giornata. Difficile magari da comprendere in poche parole, però oggi è arrivata la fuga, è arrivata una fuga ovviamente di corridori forti, corridori che hanno avuto la capacità nella seconda metà di giro dal primo chilometro di attaccare e portare avanti una fuga a oltre 40 di media e dietro c'è stata la corsa degli uomini di classifica, altrettanto spettacolare. Quindi abbiamo visto due corse, una corsa per la vittoria di tappa e una corsa per la lotta per la maglia rosa che ha nuovamente dimostrato Bernal e Ineos di tenere saldamente il primato. Alcuni hanno perso più di quello che probabilmente si aspettavano, ma diciamo che tolto Evane Puel che ha avuto una giornata difficile, ritengo che il giro sia ancora ampiamente aperto, sono ancora tutti in distacchi contenuti. E' chiaro che Bernal nei primi due appuntamenti importanti dove gli uomini di classifica dovevano dare il segnale di presente è stato il più bravo di tutti. È stato il più bravo di tutti l'altro giorno a Campofelice, è stato il più bravo di tutti oggi a Montalcino, quindi sta ogni giorno mettendo un mattoncino in più per la vittoria finale. Non dimentichiamoci che ha la squadra più forte, non dimentichiamoci che è un corridore che è capace ovviamente di vincere le grandi corse, ha già vinto il Tour, ma non bisogna sottovalutare nessuno perché è ancora lungo, ancora con tantissima montagna. Per quanto riguarda noi, il nostro capitano, il nostro corridore più esperto, Gavazzi ha dimostrato nuovamente di avere coraggio, di avere anche una grande gamba, ha lottato per la vittoria. Purtroppo una caduta, non per colpa sua, ma ovviamente sullo sterrato il corridore davanti è scivolato e lui non ha potuto fare altro che cadere insieme. Quindi ha compromesso delle possibilità, a mio modo di vedere, di vincere la corsa o comunque lottare per un podio anche oggi. Quindi ci resta un po' così, dopo tanta fatica, anche oggi non è riuscito ad ottenere quello che merita Francesco in questa corsa. Ritengo che ci sono ancora delle possibilità importanti per lui, ci sono delle tappe adatte a lui e non solo, anche ai suoi compagni di squadra. E quindi già da domani, poche ore, siamo tra poco possiamo dire oggi, pronti a lottare per continuare a fare quello che stiamo facendo. La squadra sta, a mio modo di vedere, esprimendo un bellissimo ciclismo, una capacità di leggere la corsa, presenza, appartenenza, simpatia anche nei confronti del pubblico. Ci facciamo trovare dal pubblico preparati e ritengo che questo è il nostro primo dovere, quello di renderci belli al pubblico che c'è a bordo strada. Questo è il nostro obiettivo e lo stiamo conquistando giorno per giorno e siamo anche, dentro il correre bene e l'essere belli da vedere, siamo anche capaci di portare a casa dei risultati. Sono convinto che se i nostri ragazzi continueranno a correre con questo metodo, con questo sistema, possiamo portare a casa una bella vittoria di tappa nei prossimi giorni e dobbiamo spingere tutto gas. Sì, oggi ho seguito una parte della tappa ovviamente in televisione dal Pullman e c'è stato il telecronista che commentando la fuga di Gavazzi ha detto la presenza dell'Aeolocometa sta diventando una normalità, una costante nelle fughe. Mi ha fatto pensare questa frase perché c'è poco di normale in questa cosa, nel fatto che una squadra come l'Aeolocometa sia sempre così. Sta diventando una normalità ed è bellissimo, però non è normale. Andare in fuga non è una cosa normale, le fughe vanno via in testa al gruppo e per andare in fuga devi alzare il sedere dalla sella e scattare sui pedali e andare a seguire gli avversari o addirittura proporle. In qualche occasione l'abbiamo anche proposta. Ritengo che questo sistema è molto semplice, è l'essenza del ciclismo quella di stare in testa, però poi da applicare e applicarla anche in tutte le gare non è facile. Siamo qua per questo, siamo qua per cercare di distinguerci e di inserirci nella lotta tra le squadre che sono più attrezzate di noi con dei campioni già affermati e fino a questo momento lo stiamo facendo molto bene. In tutte le occasioni che ci sono presentate siamo fatti a trovare presenti e quindi dobbiamo continuare a farlo. Decisamente, mi veniva in mente un'intervista che abbiamo fatto a dicembre addirittura, eravamo al primo ritiro di Oliva e alla domanda che cosa ti aspetti da questa squadra, tu avevi risposto proprio questo, vorrei questo, vorrei che a ogni occasione questa squadra si faccia trovare presente. Ho anche detto che volevamo vincere una tappa. Beh, insomma, direi che qualche tappa davanti ce l'abbiamo, per cui facciamo così, tra poche e pochissime ore suona la sveglia, per cui secondo me è ora di spegnere le luci e andare a letto, i corridori stanno già dormendo da un'oretta. E noi li seguiamo. E noi li seguiamo. Grazie, grazie ovviamente. Grazie per tutti quelli che ci seguono e che oggi in due o tre mi hanno fermato all'arrivo chiedendomi dei nostri podcast, per cui ci fa molto piacere. Noi ci sentiamo domani, anche perché secondo me domani sera abbiamo qualcos'altro da raccontare. Buonanotte. Ciao a tutti. Ciao a tutti.